Eccoci insieme al primo viere capo Emilio Bicocchi dopo la seconda posizione del premio Chepp Italia di oggi. Come è andata questa mattina Emilio? Essere in premiazione qui a Piazza di Siena è sempre una soddisfazione. La gara è stata molto tirata, ai tempi eravamo tutti molto vicini, sia davanti a me Mark McCauley era neanche due decimi, come dietro Paolo Paini era quattro centesimi, quindi rammarico forse, ma anche bene perché trovarsi primo, quinto, eravamo tutti in un battito di ciglia. Il cavallo ha saltato bene, in un buon momento di forma e partirà settimana prossima per Atene dove farà la Coppa delle Nazioni, quindi penso che sia stato un buon test pre-partenza.